Buongiorno cari amiche telespettatrici e cari amici telespettatori ben ritrovati al nostro consueto appuntamento mattutino con i giornali in edicola la nostra rassegna stampa. Oggi mercoledì 12 luglio 2023 scopriamo insieme le principali notizie pubblicate sui quotidiani nazionali. Sono due i focus odierni, si parla del vertice a Vilnius, Kiev nella Nato e questo al centro del tavolo. La Nato ha dato conferma del suo supporto all'Ucraina ma non c'è una data ufficiale di ingresso nell'Aleanza Zelensky, si dice deluso da questa scelta. E poi il PNRR, si parla delle 10 modifiche per salvare i fondi del PNRR, il governo sta provando a chiudere un accordo con la Commissione Europea per salvare i 16 miliardi di euro. Ed ecco questo, questi sono i focus odierni, noi diamo come di consueto il via alla nostra rassegna stampa, leggendo come sempre la prima pagina del Corriere della Sera che apre proprio sul vertice, Ucraina nella Nato ma non ora, l'Aleanza mancano alcune condizioni. Zelensky dice incertezza assurda, Meloni vede Erdogan, nasce un consiglio bilaterale con Kiev, Macron invierà i missile a lunga gittata, F-16 dagli USA in Turchia. Kiev nell'Aleanza quando ci saranno le condizioni, così il segretario generale della Nato, Stolkenberg, al termine della prima giornata di lavori al vertice di Vilnius. Il disappunto di Zelensky, assurdo, non ci sia un calendario. La Francia invierà intanto missili a lungo raggio a Kiev. E poi andiamo avanti, si parla ovviamente della cautela americana. Paolo Valentino nel suo editoriale parla di questo. Sembrava il migliore dei presagi. Risolta alla vigilia la questione scandinava con il sì del presidente turco Erdogan all'ingresso della Svezia nell'Aleanza. Il vertice della Nato appariva deciso a proiettare un'immagine di coesione atlantica di fronte all'aggressione russa. Dopo aver bloccato per un anno l'adesione di Stoccolma, il sultano ha ceduto alla pressione americana non senza prima aver ottenuto da consumato mercante. Qual è l'impegno di Joe Biden a vendergli caccia F-16 che chiedeva da tempo? Ma una volta compiuto lo storico passo, la Svezia dopo Finlandia è il 32esimo paese ad aderire alla Nato, confermandone la riconquistata importanza. I leader alleati si sono ritrovati di fronte alla questione centrale. In che modo e con quali tempi venire incontro alla legittima ambizione dell'Ucraina di far parte dell'organizzazione esorcizzando per sempre ogni minaccia, la sua sicurezza e integrità. E qui le differenze sono emersi tutte. Come a Bucharest nel 2008, neppure questa volta i leader atlantici hanno saputo indicare un calendario o una roadmap per l'adesione di Kiev. E poi ancora il caso la russa, la ragazza mi sento umiliata e davanti al PM conferma tutte le accuse, tre ore dai PM, la 22enne ha confermato le accuse contro la russa junior e la violenza sessuale. Io umiliata. Poi eredità del Cavaliere, così cresce il patrimonio dei fratelli Berlusconi. Mario Gerevini e Daniela Polizzi scrivono il patrimonio dei cinque figli di Berlusconi vola dopo l'eredità triplica per Marine e Pier Silvio, 1,5 miliardi a testa. Poi l'intelligenza artificiale cambierà il pianeta. Oggi si annuncia una nuova epoca. In essa ancora una volta la tecnologia trasformerà la conoscenza, la scoperta, la comunicazione e il pensiero individuale. L'intelligenza artificiale non è umana e non spera, non prega, non ha sensazioni, linea consapevolezza o capacità riflessive. È una creazione umana che rispecchia processi umani su macchine create da esseri umani. Poi PNRR, ritardi e liti, 10 modifiche per avere i fondi, fitto, intesa con l'Europa dal progetto Cinecittà agli assidi nido, dalle scuole di infanzia al rinnovo del parco ferroviario e agli impianti per le ricariche delle auto elettriche, 10 le modifiche per salvare i fondi del PNRR. È l'accordo che il governo sta provando a chiudere con la Commissione europea per non perdere 16 miliardi. C'è un'intesa, dice il ministro Fitto, e il PD attacca ritardi inaccettabili. Foto notizia a centropagina su Wimbledon, il terzo italiano a riuscirci nella storia, lo aspetta Diokovic, impresa Sinner in semifinale, vado a giocarmela con gioia, ha detto, entra nella storia Sinner, battendo ieri in 4-7 il russo Safiulin e il terzo italiano a riuscire ad arrivare alle semifinali di Wimbledon, lo aspetta Diokovic, giocherò con la gioia, ha detto l'alto a tesino. Poi andiamo avanti nella lettura dei nostri quotidiani, come di consueto leggendo la prima pagina della Repubblica che apre sulla RAI, tempo di censura, accusi al direttore di RAI News Petrecca, ha tagliato le notizie scomode per la destra, i giornalisti è sindacato in rivolta, lui replica polemiche di Pennivendoli, scontro nel CDA sul programma di Facci, i vertici rinviano la decisione, torna la censura. RAI News, il direttore Petrecca è stato accusato di far tagliare ogni riferimento ai casi scomodi per la destra, a partire dalle parole di Filippo Facci sulla ragazza che ha denunciato il figlio di la russa e intanto il governo cambia i piani sul PNRR. Il commento di Michele Serra, quel cavallo non è un ronzino, c'è un aggettivo che può aiutare a capire la vera e propria ribellione piuttosto clamorosa di una redazione della RAI al suo nuovo direttore. Questo aggettivo è fisiologica, si tratta di una reazione fisiologica, ben più che ideologico, politico, sindacale, a una presa del potere così aggressiva e incaute. Poi nell'analisi di Tito Boeri e Roberto Perotti si parla di numeri del salario minimo. Siamo stati tra i primi, se non i primi, a sottolineare l'importanza dell'introduzione del salario minimo in Italia. Uno di noi lo aveva proposto quasi un quarto di secolo fa in un documento preparato con due colleghi inglesi che doveva essere presentato da Blair e da Lema al vertice europeo di Lisbona. Poi fotonotizia a centro pagina, la Nato non apre a Kiev, ira di Zelensky dal vertice di Vilnius, nessuna data per l'ingresso dell'Ucraina. Lo vediamo nella fotonotizia, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky interviene sulla piazza della capitale lituana. E poi ancora il caso la Russia, la ragazza a tre ore dai PM, conferma tutto, ha detto è stato un incubo. Poi naturalmente si parla di tennis, la prima volta di Sinneri in semifinale a Wimbledon, sconfitto il russo Safiullin. E poi ancora, continuiamo, andiamo avanti, la stampa apre sul caos PNRR, allarme conti pubblici, Bruxelles pronta a esaminare i nuovi piani italiani, tempi lunghi per i fondi social card, da 380 euro per i più poveri. Giorgetti, il ritardo diventerebbe un problema. Schlein, premio a rostaggio di inchieste e scandali. Il ministro dell'economia, Giorgetti, sostiene che un ritardo sull'incasso dei fondi del PNRR è gestibile, ma se non dovessero arrivare questo diventerebbe un problema per i conti pubblici. Se la terza rata fosse entrata prima sarebbe stato meglio. Schlein attacca la Premier Meloni, ostaggio di inchieste e scandali. Poi la lezione americana. Mario Draghi scrive l'unione monetaria al bivio. La domanda più importante che dobbiamo porci è se l'Europa possa aprire una strada diversa in direzione dell'unione fiscale. E poi ancora la geopolitica Nato, il dialogo a metà tra Meloni e Erdogan, la rabbia di Zelensky, a Vilnius bandiera verde per Stoccolma, gialla per Kiev. Il vertice Nato è iniziato ieri con due segnali forti. L'uno con soli dall'aleanza politicamente e militarmente, l'altro riflette le difficoltà di accogliere l'Ucraina con la guerra in corso. La soluzione trovata a Vilnius è di traghettare Kiev verso la spondaleata, assicurando che le porte saranno aperte non appena arriverà a destinazione. L'Ucraina è ancora in mezzo al guado, scontenta, Zelensky non se ne fa un mistero. Ma le aspettative del presidente ucraino si scontravano con il realismo politico di quello americano e della maggioranza degli altri leader. E poi Monica Perosino scrive nella fotonotizia a centropagine, nel cuore di Solomia Kiev, la mamma e il battito del figlio dopo il trappianto su una bimba. Ci sono momenti perfetti in cui il dolore e la gioia coincidono in un unico punto. Sono perfetti perché non negano il male, scrive, ma lo accolgono e lo trasformano in bene. Uno di questi si è compiuto ieri in una sala operatoria in un paese in guerra. E poi ancora andiamo avanti. Strasburgo, si parla di clima, Greta guida gli attivisti, l'Unione Europea pensa solo ai giochi elettorali. Attesa per il voto di oggi sulla Natural Restoration Law al Parlamento Europeo, Greta Tungerberg, scalda la piazza di Strasburgo dove si registra anche l'alzata di scudi degli agricoltori, critiche alla politica dell'Unione Europea. Andiamo avanti nella lettura, leggiamo la prima pagina dell'Avenire, il giornale della conferenza episcopale italiana. Apre sul biglietto aperto e titola così il vertice di Vilnius ribadita l'impossibilità di adessione durante la guerra lungo incontro. Meloni-Erdogan, la Nato conferma quindi l'appoggio all'Ucraina ma senza una data per l'ingresso nell'Alleanza. Zelensky è deluso, così si lasciano margini a Mosca. La Francia fornirà intanto missili a lunga gittata. E poi ancora nell'editoriale di Leonardo Becchetti si parla di transizione, ritardare costa e rischi sociali di una frenata sul clima. Poi ancora Carovita, perdita record degli stipendi, arriva una mini carta spesa. In Italia meno 7,5% in tre anni. Nell'Ocse hanno tenuto solo i salari minimi legali. Gli stipendi, scrive Pietro Sacco, stanno inseguendo l'inflazione ma non riescono a tenerne il passo. Gli unici salari che sono aumentati più dei prezzi, dice l'Ocse, nel suo ultimo rapporto sul lavoro sono quelli minimi. Probabilmente perché in alcuni casi sono agganciati all'inflazione ma più spesso sono fissati dagli stati e non dal negoziato tra sindacati e imprese. I numeri dell'ampio Employment Outlook pubblicato dell'Ocse sembrano andare a favore di proposte ed introduzione del salario minimo come quella depositata alla Camera dalle opposizioni. Escusa, Italia Viva, la settimana scorsa. Calcola l'organizzazione che tra fine 2019 e inizio 2023 i salari reali, cioè al netto dell'inflazione, sono scesi in media del 2,2% nei 24 paesi dalle economie sviluppate del 7,5% in Italia. I temi dell'avvenire, la prima donna Barrile, la guida di Confagricoltura Leadership Gentile, Cinzia Arena Schive Siciliana, 48 anni, due figli, un passato da manager in aziende prestigiose, Anna Maria Barrile, la prima donna in un secolo di storia, ricoprire il ruolo di direttore generale di Confindustria, Confagricoltura, pardon. Il commento, l'Unione Europea delle comunità per dare futuro all'istituzione. Guido, stampa non i bassi, scrive a poco meno di un anno dalle prossime elezioni europee, l'interesse al riguardo è aumentato sensibilmente e coinvolge il 56% dei cittadini. Per l'Italia si tratta di un aumento ancora più ampio. E poi ancora fotonotizia a centro pagina, altri 10 feriti per lo scoppio di un silo, su all'Odi, lavoratore stradale muore per il caldo. Andiamo avanti nella lettura, come di consueto, leggiamo la prima pagina del giornale di Confindustria, il sole 24 ore, si parla di Dimon, l'inflazione dura da battere, arriveranno altri aumenti dei tassi. Tassi, preparatevi perché potranno salire ancora e rimanere alti a lungo. Le professioni, le pressioni inflazionistiche, tante, dalla grande spesa pubblica per Covid a green economy, spesa militare, la recessione, impossibile prevedere un atterraggio morbido, duro, la guerra in Ucraina, la Cina, il nostro falso senso di sicurezza è finito. Serve una leadership forte in Europa e Stati Uniti, con Pechino bisogna dialogare. Così Jamie Dimon, chairman e CEO di JP Morgan Chase a Milano, prima tappa di un tour europeo in questa intervista esclusiva con il sole 24 ore. PNRR, il governo rivede con la Unione Europea, 10 obiettivi su 27 della quarta rata. Nessun definanziamento per la richiesta del pagamento della quarta rata del PNRR da 16 miliardi che sarà inoltrata a Bruxelles nei prossimi giorni. Ma ieri intanto la cabina di regia riunitasi a Palazzo Chigi sotto la presidenza del ministro degli affari dell'Unione Europea, Raffaele Fitto, ha approvato la proposta di revisione di 10 dei 27 obiettivi previsti che era stata oggetto il giorno prima di un via libera tecnico della Commissione Europea e che riguarda 6 ministeri, a partire dal dossier ormai noto degli asili nido e poi spazio, imprese femminili, TPL, idrogeno, ecobonus, colonine di ricarica, cinecità e terzo settore. Space Economy, entro l'anno una legge, fotonotizia centropagina, si parla di tecnologie made in Italy, la simulazione nella foto operativa di un lanciatore Vega con lo sgancio di un satellite. E poi si parla di big tech, troppo grande, il Nasdaq rivede il peso dei titoli, si parla appunto di tecnologia e finanza, Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet, Tesla e Amazon, oltre il 50% del Nasdaq 100. Andiamo avanti, si parla appunto del vertice a Vilnius, Ucraina, nella Nato, quando ci saranno le condizioni, c'è l'ira di Zelensky. Continuiamo nella lettura dei nostri quotidiani, ci soffermiamo sulla prima pagina del resto del Carlino, che apre sui giovani sfiduciati e senza pensione, questo è il titolo di apertura, un flop, le trattative per garantire un assegno alle nuove generazioni. Ma l'Istat avvisa un ragazzo su due vive in condizioni di deprivazione. Poi l'intervista a Culicchia serve un pride per il lavoro e l'Italia fa i conti con le rate bloccate del PNRR e chiede all'Unione Europea dieci modifiche. In Nuo a Roma bufferò sulla direttrice Beatrice Venezia, diretto il concerto inaugurale delle celebrazioni pucciniane, è la fotonotizia a centropagina, l'ira dei sindaci, lei chiede destra e fascista in automatico. La direttrice di orchestra Beatrice Venezia, ieri a Luca, ha diretto il concerto inaugurale delle celebrazioni pucciniane nel programma Cellino a Roma, composto nel 1919 e poi fatto proprio dalla ideologia fascista. Alcuni amministratori hanno chiesto di non eseguirlo e ieri non si sono fatti vedere. La direttrice Venezia replica, l'ho sempre fatto e continuerò a farlo. Chi è di destra e fascista in automatico? E allora andiamo avanti, si parla di baby gang, si ispira ai trapper, incendi e furti, dieci identificati a Bologna in zona navile. Ancora nella nostra lettura, andiamo avanti, l'eco di Bergamo apre sui reati comune per comune in un anno 39.691 le denunce, chi sale e chi scende nei dati della Prefettura in testa a orio, in fondo albino. E poi infarto in quota, salvo con defibrillatore talmente rapidi e bravi da meritarsi i complimenti degli operatori del 118, così utilizzando il defibrillatore automatico installato fuori dal rifugio Alpecorte a Valcanale di Ardesio, la figlia dei rifugisti insieme a un parroco e ad alcuni suoi ragazzi del CRE, sono riusciti a salvare un uomo colpito da infarto. Dopo aver chiamato il 112 hanno preso il defibrillatore dalla colonnina appena fuori dal rifugio, racconta Serena Bonacorsi di 21 anni e sono andati dal giovane. So solo che si chiama Marco, ha 38 anni perché il suo amico continuava a chiamarlo per fargli forza. Il 38enne in volo verso il Papa Giovanni, dove è ricoverato, ha avuto un altro arresto cardiaco. E poi continuiamoci, soffermiamo adesso sulla Gazzetta del Mezzogiorno che titola sull'Italia ombre e luci, maglia nera per i salari ma cala la disoccupazione dal governo Card di 382 euro per alimenti e beni. Il commento di Gigi Abucci, Paola Clemente, dignità e lavoro nel suo nome. Domani saranno trascorsi otto anni dalla morte di Paola Clemente, l'operaia agricola 49enne, è diventata a suo malgrado simbolo delle dinamiche di sfruttamento e intermediazione illegale di manodopera nel sistema primario, ma non solo in Puglia. Lei è stata simbolicamente intitolata la legge più avanzata di contrasto al caporalato e al lavoro nero, la 199 del 2016. Nave della Marina, molesti a bordo su donne e gay, dei tarantini, fra le presunte vittime, l'inchiesta della procura militare. Incendio shock al Miulli, nessun ferito, acqua viva, reparti evacuati, è successo ieri ed è nella notizia, nella fotonotizia, sulla prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno. Poi andiamo avanti, la Nato frena Kiev, Zelensky, Furibondo, appunto si parla del vertice di Vilnius. E poi focus sull'edicola del sud sul piano, il PNRR, 10 modifiche per la quarta rata, il governo cambia 10 obiettivi su 27, boccia del PD all'attacco. Ora Meloni riferisca in aula. Poi arriva la card per le famiglie in difficoltà, misure antirincari, una tessera con 400 euro da spendere in genere alimentare, e l'aiuto che il governo Meloni ha pensato per le famiglie in difficoltà a causa dell'inflazione galoppante. Il dossier è coreati. Puglia, seconda, la regione scala posizioni nella classifica dell'illegalità ambientale, davanti c'è solo la campagna. La Puglia scala posizioni nella classifica dell'illegalità ambientale, diventa seconda alle spalle della campagna. E' quanto emerge dall'ultimo dossier di Lega Ambiente. Inferno al Miulli, fiamme e terrore nell'ospedale di Acquaviva delle Fonti, nella fotonotizia a centropagina. E poi andiamo avanti, torniamo sulle prime pagine nazionali, il messaggero, autonomia, mossa, Fratelli d'Italia, la scuola resti statale, c'è una frenata anche su energie e infrastrutture. Autonomia e battaglia in commissione. Un emendamento di Fratelli d'Italia prevede che per poter avviare le trattative su alcune materie come l'energia, la scuola, le reti di trasporto, serva un'autorizzazione delle camere. PNRR cambiano gli obiettivi, intesa tra Italia e Unione Europea. Per la quarta rata modifiche su caldaie, asili e colonine elettriche. Fitto afferma, nessun ritardo, siamo più avanti degli altri. Cardo sociale attivazione entro il 15 settembre. Orore in crociera stuprato a 15 anni da un inserviente. Ragazzo spagnolo abusato a Napoli durante una sosta. I genitori erano a terra. Il mattino apre sull'autonomia il rallentatore di DL Calderoli, 557 emendamenti, i balboni, tempi lunghi, mossa di Fratelli d'Italia, la scuola resti statale e poi l'adesione di Bonaccini e Manfredi alla manifestazione del PD a Napoli. Ma De Luca non ci sarà. Poi ancora si parla della cronaca. Orore in crociera il ragazzo spagnolo violentato a 15 anni nella sua cabina. E poi PNRR modificati i 10 obiettivi della quarta rata. Il governo, nessun ritardo, rispetteremo i tempi previsti. Vertice a Vilnius, Kiev nella Nato, ma non c'è data. Zelensky si dice deluso. Scelta assurda, ha detto. Ed infine ci fermiamo sul quotidiano del Sud, l'altra voce dell'Italia, diretto da Roberto Napoletano, che apre proprio sul PNRR. Siamo i primi, non gli ultimi. Nessun paese, tranne noi, ha presentato la richiesta di pagamento della quarta rata con le modifiche concordate in Europa. Il metodo fitto di operazione verità e riorganizzazione sul piano interno e di confronto preventivo tecnico con la Commissione ha permesso di condividere con l'Europa le modifiche di 10 su 27 degli obiettivi della quarta rata e di misurarsi con successo su una congerie di cambiamenti di dettaglio sulla terza rata. Senza esaltarci troppo, perché il lavoro attuativo che abbiamo davanti imponente potremmo anche rivendicare il merito di aver indicato la strada in Europa con la riunione delle deleghe sotto un unico dicastero, quello guidato da fitto e collocandolo a Palazzo Chigi, non male, per un governo che avrebbe dovuto segnare la frattura sovranista italiana. Poi, fitto, la chiederemo tutta, il governo modifica 10 interventi per blindare la quarta rata PNRR. Poi si parla anche del ponte sullo stretto, biglietto da visita per il Made in Italy. Antonio Truisi scrive, se c'è un punto di osservazione privilegiato per capire che cosa si muove sul fronte delle infrastrutture, questo è sicuramente nei bilanci delle società di ingegneria e di architettura e i dati sono sicuramente da incorniciare. Poi, la capitale deve essere lo specchio bello della nazione, il traffico sta uccidendo Roma, il governo deve imporre soluzioni. Ercole in calza scrive, vi riporto di seguito dei dati sulla presenza di auto private nell'area metropolitana di Roma, sono dati noti da sempre riportati in modo diffuso in questi ultimi giorni da Roma servizi per la mobilità in città. Ogni giorno si contano 630 autovetture ogni 1000 abitanti e il totale fa 1.741.000 macchine più 385.000 motocicli. E poi la produzione industriale torna in carreggiata, il dato tendenziale resta negativo ma il segnale di maggio va considerato l'inizio dell'uscita dal tunnel. L'Istat ha rilevato la crescita della produzione industriale dell'1,6% rispetto ad aprile. Ed era questa la nostra ultima notizia della rassegna stampa odierna, noi vi ringraziamo per averci seguito, vi rimandiamo alla prossima edizione della nostra rassegna stampa che esiterà come di consueto domani mattina e intanto vi auguriamo una serena giornata in compagnia dei nostri programmi televisivi.